Siamo donne con le curve e abbiamo gli stessi diritti delle donne che di curve non ne hanno. Questo è il senso del messaggio di Ailey Asseroff che non è nuova a provocazioni plateari di questo genere. Lei, la Curvy Model, ha un cognome che pesa. E' infatti la figlia di David Asseroff, l'iconico Mick Buchanan di Bayvatk, e su Instagram ha i numeri dalla sua parte. Quasi centomila fullover la seguono, condividendo le sue battaglie sulla possibilità di avere più top model curvi nel mondo della moda. Il nome di Ailey Asseroff è salito alla ribalta la prima volta quando, nel maggio 2017, è stata arrestata per guida in stato di ebrezza. Raccontava TMZ che la venticinquenne era svenuta sul sedile del guidatore, con i piedi sul freno. Quando sono arrivati i paramedici e autorità riuscirono a svegliarla e a convincerla a scendere dall'auto. Dopo l'arresto, le visite in ospedale e poi una notte in gattabuia. Nata dal matrimonio che il padre ha avuto con Pamela Buck, Ailey ha avuto sin da subito grande confidenza con il mondo dello spettacolo. È diventata una modella curvi già a 14 anni ed ha affrontato il bullismo a scuola. Ne ha raccontato in numerose interviste. Credo che tutti abbiano avuto in un modo o nell'altro avuto a che fare con il problema del bullismo. Penso che per me i momenti più difficili siano stati gli anni della re-adolescenza, quando il mio corpo si stava sviluppando. Credo che la sicurezza derivi da una connesione con il proprio io interiore. Nel corso degli anni, sento di aver conquistato un enorme senso di connessione, accettazione e apprezzamento per i miei pensieri e le mie emozioni. Ailey è apparsa per la prima volta, ancora bambina, proprio in alcune puntate di Baywatk, iniziando una carriera di attrice, e apparsa nella serie TV Uge, in parallelo a quella di modella. Chi se ne frega.